Il grande esempio è come lo Spirito Santo ci protegge durante le persecuzioni, anche adesso. Non solo una tribolazione che avviene, ma anche adesso, ora, subito, nelle attuali emergenze e persecuzioni, lo Spirito Santo è al nostro fianco, per aiutarci, per guidarci. Allora voglio chiederti, perché io ci credo che c'è lo Spirito Santo sempre con noi, ma perché a volte si sentono dei cristiani scoraggiati, dispersi nelle difficoltà, che non sanno cosa fare, confusi? Anche loro hanno lo Spirito Santo. Sì, sì, però lo Spirito Santo non è che funziona sempre. In presenza di disobbedienza l'unzione la perdi, non la salvezza. L'unzione del Spirito Santo non è la salvezza che non perdi mai. Perdi l'unzione, come Sansone, camminava in disobbedienza, invece gli occhi su Yahweh, su Dio, li tenevano sulle sgualdrine filistee. E il poveraccio è cascato nella fossa. Va bene, quella donna lì, Dali, è una forza profonda. Attenzione alle forze profonde, donne o uomini. I cristiani oggi sono scoraggiati, non sanno cosa fare, eccetera. Anche se hanno lo Spirito Santo, anche se parlano in lingua e stralingue, non sanno cosa fare, spesso e volentieri, perché non sono maturi abbastanza da cercare il Signore. Non ne hanno fatto l'abitudine. Di solito perché magari il cristiano ha avuto una conversione molto recente. Oppure provengono da chiese che non hanno insegnato loro ad ascoltare, ad ubbidire la voce, le direttive di Dio, ma hanno insegnato loro solamente a ubbidire attraverso la direzione di una chiesa centralizzata. Una vera chiesa insegna fratelli, siamo tutti pastori qua. Poi c'è uno, naturalmente, nominato pastore della chiesetta, d'accordo, ma tutti siamo chiamati ad essere pastori. Se il pastore, per esempio, è partito per tre mesi, dieci si alzano i piedi e prendono il suo posto in umiltà, in fedeltà. Ebrei 5. Attenzione che non adempiamo questa scrittura. 12 a 14. Ebrei 5, 12 a 14. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece, avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Ebrei 5, 12 a 14. Va bene. Quindi chi usa il latte non ha esperienza, perché è un bambino. Ecco perché tu chiedevi perché tanti cristiani oggi non sanno cosa fare. Se c'è uno spirito santo è perché sono disobbedienti. Quindi il spirito santo puoi guarire le persone così, puoi pregare in lingua, però non hai l'unzione. Sansone aveva lo spirito di Dio, l'unzione, però non ha obbedito. L'unzione si è andata e gli hanno cavato gli occhi. Non fatevi cavare gli occhi, fratelli, per disobbedienza, per la zaronite cronica acuta. È importante che siamo in unità con il nostro pastore e gli anziani della nostra chiesa, qualunque chiesa, una appartiene. Questo però, perché io parlo anche all'altra chiesa, perché ci sono pecorelle anche fuori. Comunque chiesa deve stare in unità, col pastore, con gli anziani, però questi anziani hanno però la responsabilità di insegnare ai loro bambini spirituali anche a come essere autosufficienti in Cristo. E nella parola della Bibbia, e ascoltare la parola della Bibbia, e ascoltare nell'udire lo Spirito Santo, quando è necessario, anche da soli. E non sempre attaccati al grembiule della mamma, che non si è capace a fare niente. Viene infatti il tempo, anzi, ora è, che possono sorgere situazioni, e sorgeranno, dove il pastore non sarà raggiungibile. E allora dobbiamo assolutamente essere in grado di udire la voce di Dio per noi stessi, e non solo aspettare sempre la domenica mattina. E non ci sarà domenica mattina. Il Dio ha mandato una pestilenza, non poteva neanche andare nella baracca. Allora, la vita nostra, la vita dei nostri cari, può dipendere da questo. Da cosa, Angela? Dalla nostra obbedienza. Dal nostro potere ascoltare, discernere, ubbidire la voce di Dio. Dobbiamo imparare a discernere la voce di Dio. Qual è il musicista che insegna agli allievi a suonare, ma non gli insegna ad accordare la chitarra, il trombone, il pianoforte? Se non impari a accordare la chitarra, eri come me, che andavo a cercare sempre uno che me l'accordasse, mi sono stancato, e ho detto, basta, basta! Mi sono stancato, caspita! Mi smettevo lì ogni giorno, finché ho imparato a accordare la chitarra. Oh! E sai, devi avere l'orecchio, eh? Tin, tin, ton, ton, tan, tan, pin, ping. No, tro, ton, pa, pom, po, 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 pa. No, devi fare tin, 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 tan, tan. Capito? Sì, ho imparato a accordare la chitarra. Eh sì. Quando imparato a accordare la chitarra suonavo e la gente quasi non capiva che io non sapevo fare niente, perché almeno la chitarra era accordata, capito? La musicista non sappiamo la chitarra, però era sì. E allora, sai, tiravo a campare. A me mi interessava solo cantare due o tre canti perché prende attenzione e poi fargli pregare per il cielo di Gesù. Appoggiavo il ferro vecchio e pregavano. No, ma quali due o tre canzoni? Tu cantavi, mi ricordo in Italia, cantavi un mezza canzone, poi davi un messaggio e predicavi la salvezza, la preghiera e poi finivi la canzone dopo. Sì, la canzone era una scusa, era l'esca. Sì, sì. L'amo era la predica nel mezzo. Non appena aveva l'attenzione a questi chiunque si distraggono. Allora fermavano un attimo, facciamo pregare, diceva Gesù, e adesso finisco la canzone. Eh, i picchi trucchetti, sai, del mestiere. È così. Gloria a Dio. Allora, il dovere di ogni pastore, ma i pastori questi non lo ascolteranno, perlomeno i disobbedienti, è quello di insegnare ai fratelli a ascoltare la voce di Dio. Ma se non si insegnate le vostre pecorelle a ascoltare la voce di Dio, come accidenti faranno a capire che è il diavolo che sta parlando e non Dio? Qualunque diavolo che entra in chiesa, ah, guarda che grande apostolo, guarda ha dato un'offerta, un tipo potenziale, ha detto così che ci compra dieci panche, oh, guarda, avanti, avanti, prego, al pulpito a predicare subito, e quello magari è un diavolo. Però se tu sai di discernere la voce di Dio, alta, quel tizzone ardente cacciolo fuori, dice Paolo, primo corinzi 5,5. Quel tale, dalla chiesa, il corinto, cacciatolo fuori e datelo nelle mani di Satana, finché lo spirito sarà salvo quando lui si pentirà. Cacciatolo e datelo a Satana, un fratello. Come fai a dire questo se non ha ascoltato dal Signore? Infatti quel tizio si è pentito. Cioè, infatti, oggi quali chiesa fanno questo? Ma figure di cacciarlo fuori, ma qui perdiamo soldi, stiamo scherzando. E infatti stanno proprio scherzando invece di predicare il Vangelo. Andiamo a numeri... Angela, adesso voglio dare un po' di numeri, va bene? Numeri 11, 25 e 29, lì c'è un bel passaggio, lo vogliamo leggere? Sì, sì, sì. Numeri 11, 25 e 29. Nel nome di Gesù Cristo. Il Signore scese nella nuvola e parlò a Mosè, prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui settanta anziani. E appena lo spirito si fu posato su di loro, profetizzarono e poi smisero. Intanto due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di loro. Erano fra i settanta, ma non erano usciti per andare alla tenda e profetizzarono nel campo. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse, Eldad e Medad profetizzano nel campo. Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè fin dalla sua giovinezza, prese a dire, Mosè, signor mio, non glielo permettere. Ma Mosè gli rispose, sei geloso per me? O fossero pure tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore mettere su di loro il suo spirito? Numeri 11, 25, 29. Gloria, signor, capito? Fossero pure tutti profeti e pastori. Capito, Mosè non era geloso? No. Magari prenderà il posto di... così vanno in giro a lottare anche loro. Avanti, avanti, avanti. Dio chiama tutte le nostre chiese ad essere piene di pastori e profetizzare. Se qualche fratello vuole venire qua a Sud America a fare il pastore e viaggiare per il Sud America a evangelizzare, non qua a dormire su un materasso a casa mia, ma in giro per il Sud America a evangelizzare, venite. Il poco che ho imparato da Gesù in questi 48 anni sarò felice di condividerlo, di pregare per unzione, Spirito Santo e tutto, ma poi andate però, venite qua a aver cappuccino tutte le mattine, che non invitiamo nella nostra casa a dormire. Vi inviamo a evangelizzare, come ho fatto io tanti anni fa, proprio qui sull'America, anche in India, perché il Signore è con voi, il Signore vi unge, il Signore vi dà la potenza, il Signore vi usa e cominceranno i miracoli, comincerete a vedere persone che guariscono, i demoni che scappano di notte e di giorno, ma scappano perché andrete nella potenza di Dio, nello Spirito di Gesù Cristo. Quale demone può frapporsi tra voi e la volante di Dio? Nessuno, nessun demone può fermare l'uomo di Dio che è disposto a morire per il Vangelo. Nessun demone può farlo. Apocalisse 12-11 lo vinsero perché non hanno amato la loro vita fino alla morte, hanno vinto il dragone, il serpente, il diavolo, la bestia nel nome di Gesù Cristo, ma quelli che vinceranno la bestia nella tribolazione cominciano a vincerlo adesso. Quelli che dicono domani, domani, ciao, non ho tempo da perdere io con la gente del domani. Noi o siamo una chiesa di oggi adesso, subito di corsa, o non siamo una chiesa. Che se non siamo una chiesa di discepoli, io non voglio una, non voglio, io preferisco andare per le strade da solo con un fratello, una sorella, due, tre, quattro, cinque, quelli che sono disposti a venire fuori da Sodoma, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Signore, aiutaci, Signore.